La polizia stradale ha arrestato 5 persone dell'Interland partenopeo di età compresa tra i 26 e i 36 anni, tutti con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, che si sono rese responsabili di tentato furto aggravato ai danni dell'Istituto Bancario Campano di Campigliano, sul territorio di San Cipriano Picentino. Gli indagati sono stati arrestati nella flagranza del reato, ancora con passamontagna e guanti all'interno dell'Istituto stesso, dove con una potente fiamma ossidrica stavano tentando di scardinare il Bancomat. L'operazione è scaturita dalle risultanze investigative raccolte dagli inquirenti dopo investigazioni avviate a seguito di eventi criminosi ai danni di autotrasportatori e utenti circolanti sulla rete autostradale.